Ciao da Super Gossip Tina Cipollari non ha risparmiato critiche a Luciano, un cavaliere del trono over che, nella puntata di Uomini e donne del 19 gennaio, si è accomodato al centro dello studio per un confronto con Ida, Sabrina e Tiziana, le tre dame che ha scelto di conoscere e frequentare. Al centro dello studio, Sabrina racconta di aver ricevuto una sua visita, di essere stato bene con lui, ma di non voler affrettare i tempi tornando ad accomodarsi nel parterre. La situazione si infiamma quando Maria De Filippi chiede a Tiziana di raccontare l'uscita fatta con Luciano. La dama spiega che l'appuntamento non è andato benissimo svelando, inoltre, una mancanza che, a suo dire, avrebbe commesso Luciano. Stando al racconto di Tiziana, Luciano non avrebbe pagato due calici di vino alla fine della cena. «Ma che pezzente sei!» è esplosatina puntando il dito contro il cavaliere. Luciano, tuttavia, rigetta l'accusa di Tiziano e racconta di aver pagato il conto che gli era stato consegnato e dove, a quanto pare, en pon erano segnati i due calici di vino. Dopo aver ascoltato la versione di Luciano, Maria De Filippi fa notare a Tina che c'è stato un errore e che Tiziana si è ritrovata a dover pagare i calici di vino solo perché non erano stati segnati sul conto. Di fronte alla realtà, Tina Cipollari ha fatto un passo indietro chiedendo scusa a Luciano, che ha accettato le scuse della bionda opinionista, decidendo, però, di chiudere la frequentazione con Tiziana, portando avanti, invece, quella con Ida. Ciao da Super Gossip, se ti è piaciuto il video, metti un like, commenta, condividi. Grazie.